Siamo all'ultimo intervento ma non meno importante della mattinata, quindi abbiamo Stefano Micheletti di Arpa Veneto, che però interviene anche a nome di Luca Marchesi, direttore dell'area tutela del territorio della Regione Veneto, in quanto oggi non ha potuto essere presente a causa di una commissione a cui è stato chiamato. E quindi noi abbiamo avuto un'ottima collaborazione con Arpa, avevamo bisogno del vostro supporto nell'ambito del progetto e credo sia stata importante anche per fare delle riflessioni insieme su quella che è la necessità. No, voi siete un organo tecnico, avete moltissime competenze, moltissimi dati, ma ancora finché non siamo arrivati noi a chiedervi delle cose, ancora non avevate trovato il modo per aiutare le città. E quindi insieme abbiamo lanciato un percorso. Grazie intanto. Grazie a voi, beh ci stiamo lavorando evidentemente, appunto abbiamo cominciato a lavorarci. Comincerei con la presentazione del dottor Marchesi, che appunto si scusa ma oggi per un impegno tanto imprevisto quanto inderogabile non può essere presente qui con noi. Come si fa? Devo mandare avanti? Sì, scusi, la freccia verde. Ok, sì, sarebbe quell'altra presentazione, quella appunto del dottor Marchesi, se riuscite a caricarla, perché anche da un quadro generale di contesto che è utile per poi introdurre quello che fa Arpav. Ok, perfetto, ecco, partiamo da qui, quindi con quello verde vado avanti, partiamo dalla situazione, rapidamente sappiamo che a livello regionale in Veneto dei cambiamenti climatici sono particolarmente, insomma la regione è particolarmente coinvolta, sappiamo dell'aumento delle temperature, molto rilevante anche nel contesto dell'hot spot mediterraneo, sappiamo dell'aumento delle temperature minime che ha una particolare rilevanza, specialmente quelle estive e sappiamo che questo aumento delle temperature e anche poi le variazioni di precipitazione sembrano essere, cioè, non sembrano, si stanno accentuando in particolare negli ultimi decenni. Ecco, di questo ovviamente la regione Veneto è ben consapevole, tant'è che insomma questo è un indicatore, per chiamarli indicatori, è che dall'anno scorso abbiamo un assessore che è assessore alla protezione civile e all'ambiente e al clima. Ok, questo vale anche in ambito urbano, nel senso che sappiamo che le zone urbane sono particolarmente impattate, sono alcune fra le zone particolarmente impattate dai cambiamenti climatici, sia per quanto riguarda la temperatura e l'umidità, che causano problemi alla popolazione, l'isola di calore, eccetera, eccetera, sia d'altra parte per quanto riguarda le precipitazioni, che ci presentano fenomeni appunto di precipitazione, piogge intense, spesso anche di breve durata ma molto intense, che portano a fenomeni di alluvioni lampo e che poi sono a loro volta aggravati dalle condizioni delle superfici. E da questo punto di vista già insomma si vede la corrispondenza con i focus del progetto Veneto ADAPT. A questo punto bisogna intervenire, c'è la consapevolezza che bisogna intervenire e per intervenire la regione, l'amministrazione regionale, ha degli strumenti che sono quelli tipici appunto dell'amministrazione regionale e in particolare uno strumento che può intervenire soprattutto sulle aspetti di mitigazione, è il DEFR, un altro che invece riguarda più la parte di adattamento è il POR. Dunque il DEFR, documento di economia e finanza regionale, prevede un piano straordinario di revisione delle norme e dei piani regionali per ridurre le emissioni climalteranti e quindi verranno valutate tutte le misure che sono previste nei vari piani regionali che possono avere effetti sulla riduzione appunto delle emissioni e che siano quindi idonee ad aumentare la sostenibilità trasversalmente in tutti i settori. Nel 2022 abbiamo già delle prime azioni previste che riguardano l'ambito dell'area, quindi mettere mano all'aggiornamento del piano regionale di tutelare e risanamento dell'area valutando anche qui le possibili interventi, azioni che portino alla riduzione delle emissioni climalteranti e dall'altra parte analogamente per quanto riguarda il piano energetico regionale che la Regione vuole portare in approvazione appunto con specifica attenzione alle ricadute positive sulle riduzioni delle emissioni di gas serra, tant'è che si vuole predisporlo come piano energia e clima. Bene, questo appunto vi dicevo per quanto concerne la parte di soprattutto rivolta alla mitigazione, per quanto riguarda invece gli adattamenti ecco qui interviene in maniera preponderante il POR che ha un obiettivo specifico che è quello clima e rischi che si declina poi nell'obiettivo di ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture, delle imprese promuovendo appunto l'adattamento, la prevenzione, l'aumento della resilienza a tutto quanto, in particolare alle catastrofi e si declina poi in contrasto al dissesto idrogeologico con la prevenzione degli eventi calamitosi e interventi di preparazione per fronteggiare le fasi di evento e poi di risposta post evento. In questo contesto sono quindi finanziati, adesso non sto a leggervi di tutti anche perché insomma è abbastanza tardi e quindi ripristino infrastrutturazione verde-blu, aree umide, interventi nelle aree urbane eccetera eccetera di impermeabilizzazione, prevenzione del rischio di incendi boschivi, questi sono tutti gli interventi di questo tipo che sono previsti. Un altro obiettivo del POR è quello che riguarda la biodiversità e l'inquinamento e qui si tratta di cercare di aumentare la capacità di adattamento delle città attraverso infrastrutture verdi e blu che con la capacità di fornire servizi ecosistemici consentano di mantenere gli apparati vegetazionali e quindi abbiamo interventi per attenuare la frammentazione degli ecosistemi e ripristinare i corridoi ecologici eccetera eccetera. Questi obiettivi del POR si declinano poi a loro volta in azioni e quindi vedete che con un discreto finanziamento sono previste azioni di potenziamento della rete di monitoraggio e qui devo dire che ARPAV già sta intervenendo da questo punto di vista e magari dopo ci ritorno anche per quanto riguarda Padova di depavimentazione delle aree impermeabili e quindi di ripermeabilizzazione dei suoli di nuovi sistemi di ritenzione e di drenaggio, poi progetti pilota per adattamento e per inserimento di elementi d'acqua in alcuni assi stradali nelle piazze, potenziamento del recupero delle acque grigie, i tetti verdi e le pareti verdi le buone pratiche per la biodiversità nei boschi urbani e per la manutenzione del verde a bassa manutenzione e inserimento di nuovi parchi urbani con le priorità ovviamente nelle situazioni che maggiormente lo richiedono e anche da questo punto di vista insomma molto rispecchia quanto abbiamo già visto nel contesto del progetto Veneto ADAPT. Ecco queste azioni, questi interventi che la Regione Veneto ha intenzione di porre in essere ovviamente avete visto riguardano prevalentemente diciamo il presente ma soprattutto sono rivolti al futuro. Possiamo anche vederli e intendiamo leggerli così, la Regione intende leggerli così, come interventi preordinati alla realizzazione di una strategia regionale sui cambiamenti climatici alla quale stiamo già pensando, la Regione sta già pensando. Nel frattempo questo non vuol dire che non sia stato fatto niente nell'emore appunto della strategia che verrà in realtà in particolare nell'ultimo decennio è stato fatto molto sia dal punto di vista della mitigazione con l'adesione e la partecipazione a tutte le politiche europee e nazionali sia dal punto di vista dell'adattamento perché in particolare tramite la difesa del suolo è stata notevolmente ridotta la fragilità del territorio di fronte specialmente agli eventi del dissesto idrogeologico basti pensare a tutti gli interventi che sono stati realizzati dopo l'alluvione del 2010 e dopo la tempesta Vaia del 2018. Inoltre cito anche la partecipazione della Regione a vari progetti fra cui Adria Klim, questo e altri. Ok, questo per quanto riguarda l'aspetto delle politiche regionali. Perfetto, grazie. Passiamo adesso alla parte relativa al contributo di ARPAV. Allora, quello che vi sto dire ovviamente riguarda specificatamente la Regione del Veneto quello che fa l'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale fatto salvo alla collaborazione che poi verrà senz'altro con la nuova Agenzia Italia Meto di cui abbiamo appena sentito che ce n'ha parlato Carlo Cacciamani. Ad ogni modo, in questo contesto cosa fa ARPAV? Beh, anche qui... Eccola qua, foto che probabilmente molti di voi non hanno già visto usata, non abusata, ma insomma usata frequentemente nei cambiamenti climatici, ci siamo dentro fino al collo e lo vediamo, si vede. Ne abbiamo, ne possiamo avere tutti una percezione, un'evidenza appunto percettiva, sensoriale quasi mi verrebbe da dire. Domanda retorica, è sufficiente? Ovviamente no. E qui viene il contributo che può dare un'agenzia come ARPAV. Diciamo che abbiamo tre tipologie di contributi sui quali stiamo lavorando, che stiamo dando, che possiamo dare. Il primo è il contributo quindi della conoscenza. Siccome la, chiamiamola, mera esperienza sensoriale, percettiva, non è sufficiente perché abbiamo bisogno di conoscere meglio quali sono, qual è l'entità dei cambiamenti climatici sul nostro territorio, come si manifestano, ecco che il primo contributo che ARPAV può dare è un contributo conoscitivo, conoscitivo proprio a livello locale. Sappiamo che abbiamo i dati a livello planetario, poi ci sono quelli europei, poi ci sono quelli nazionali, italiani, benvenga, tutti senz'altro molto utili e apprezzati, che tutti utilizziamo, però è meglio ancora se poi abbiamo anche delle informazioni locali perché come vedremo i cambiamenti climatici non si manifestano e non si manifesteranno in maniera uguale in tutte le zone del nostro territorio. Per cui abbiamo bisogno di questa conoscenza locale che si fa attraverso le misure, quindi non solo i cambiamenti climatici li possiamo vedere andando a fare delle fotografie ad esempio a un ghiacciaio, ma abbiamo bisogno di misurarli. Le misure ci consentono di avere a disposizione dei dati, dei dati numerici, che poi elaboriamo, ne facciamo dei grafici come questo che stiamo vedendo, grafici che possiamo poi distribuire, appunto rendere disponibili e che possono essere utilizzati da tutti coloro che ne hanno bisogno. Queste sono informazioni, conoscenze sui cambiamenti climatici che riguardano, diciamo così, il presente che sfugge subito perché diventa immediatamente passato. Queste riguardano in particolare il recente passato, che come abbiamo visto è quello in cui i cambiamenti climatici si sono più accentuati, più forti e anche più veloci. Qui abbiamo un grafico di temperatura, adesso non entro nel dettaglio perché penso che insomma molti lo conosceranno e appunto perché non voglio dilungarmi troppo. Questo riguarda l'ultimo trentennio grosso modo. Stiamo elaborando anche delle mappe, questa è una mappa di anomalia che ci mostra come su tutto il nostro territorio la variazione delle temperature negli ultimi decenni è in aumento, seppur con delle differenziazioni in varie zone. Poi siamo anche consapevoli dei limiti di questi dati perché fare delle misure, mettere fuori un termometro sembra semplice ma non è poi così semplice come sembra avere dei dati buoni, di qualità e su questo ovviamente ci stiamo lavorando. Una volta che ci sono i dati appunto si fanno le elaborazioni, queste ad esempio sono elaborazioni su il numero di giorni caldi, appunto dicevamo prima, mi pare proprio Carlo, 40 gradi, qui vabbè è un'altra soglia 35 ma insomma già i 35 gradi qualche decennio fa erano una assoluta eccezione e stanno diventando un qualcosa di abbastanza abituale. Passiamo non solo alle temperature ma anche alle precipitazioni, di nuovo serie storiche di precipitazioni che riguardano tutta la regione del Veneto, anche di questi dati di precipitazione forniamo delle rappresentazioni geografiche, quindi le mappe sul nostro territorio, mappe di quanta pioggia cade e di qual è la variazione della pioggia che sta cadendo, già lì nell'immagine qua a destra vedete che sta crescendo la quantità di pioggia che cade in un anno nelle zone pedemontane, prealpine e anche alpine della nostra regione, mentre è stabile o in certe zone più verso il Po anche in diminuzione appunto negli anni recenti, per cui abbiamo differenze di andamento da una zona all'altra della nostra regione. Questi dati di precipitazione possono essere poi elaborati in altri indici, indicatori, l'SPI è un indicatore molto comune che viene utilizzato per valutare le situazioni di abbondanza di precipitazioni o di siccità e queste sono tutte elaborazioni che riguardano gli ultimi decenni. Abbiamo a disposizione, scusate, questo è un altro esempio di elaborazione fatta proprio in collaborazione con ISPRA, indicatori di nuovo in cui si contribuisce come regione a un quadro più complessivo nazionale, questo è quello dell'erosività media annua delle piogge che come vedete sta incrementando anch'essa e anch'essa in maniera diversa a seconda delle zone della regione. Stiamo lavorando anche sui dati storici dei decenni precedenti che abbiamo grazie all'eredità che abbiamo ricevuto da coloro che ci hanno preceduto, il Servizio Geografico e Mereografico Nazionale via via andando più indietro per poter valutare gli andamenti nel più lungo periodo in particolare per le precipitazioni che hanno oscillazioni di varia lunghezza d'onda nel corso degli anni e dei decenni e tutto questo riguarda, come vi dicevo prima, la produzione di conoscenza sul clima locale del Veneto nel passato per arrivare fino al presente. Stiamo lavorando da poco, grazie proprio ai progetti in cui stiamo partecipando, anche sulle proiezioni, stiamo trattando i dati che ci danno informazioni su quale sarà il clima del Veneto in futuro ovviamente a seconda dei vari scenari che tutti immagino ben conosciamo nei vari scenari, nelle stagioni eccetera eccetera per la temperatura e qui vediamo appunto diversi scenari qui una stagione specifica e anche in questo caso sappiamo tutti bene che la temperatura aumenterà, che potrà aumentare un po' di più o un po' di meno a seconda delle condizioni di sviluppo socio-economico degli interventi di mitigazione che saremo in grado, speriamo il più possibile di mettere in atto tutti quanti a tutte le scale geografiche eccetera eccetera ma interessante è poi quando bisogna fare le politiche di pianificazione a livello locale di cui parlavamo prima sapere anche in questo caso se questo aumento delle temperature sarà omogeneo e non è così come vediamo da queste mappe sul nostro territorio vediamo che ad esempio in inverno specialmente nello scenario più estremo la montagna si riscalderà di più delle zone di pianura e di costa qui sempre stiamo vedendo le temperature altri indicatori notti tropicali numero di invece gelate invernali tutte queste sono elaborazioni sulle quali stiamo lavorando analogamente a quello che riguardava il passato anche per il futuro cerchiamo di capire come andrà anche con le precipitazioni qui gli scenari sono ancora più diversi perché in particolare per l'estate lo scenario più estremo ci prospetta una molto significativa diminuzione delle precipitazioni gli scenari già quello più intermedio e soprattutto quello di diciamo così di Parigi e dell'accordo di Parigi ci prospettano invece una relativa tenuta delle precipitazioni e questo può voler dire molto perché avere tanto caldo con poca acqua è ben diverso da avere tanto caldo con tanta acqua a disposizione anche qui elaboriamo le mappe ad alta risoluzione insomma alta relativa ma rispetto alle proiezioni globali planetarie e questa è una risoluzione abbastanza alta nei vari scenari e nelle varie stagioni qui si vede come le precipitazioni incrementeranno di più anch'esse così come le temperature nella zona montana e anche la diversa distribuzione degli eventi più intensi di precipitazione bene questo è il primo contributo quello conoscitivo quindi quali sono state le variazioni del clima a livello locale quindi regionale nel passato e fino ad oggi e cosa ci attendiamo per il futuro specificatamente nel nostro territorio poi c'è un secondo contributo che è quello diciamo operativo e che riguarda soprattutto l'adattamento e quindi ARPA Veneto è uno degli anelli che stanno alla base della catena della previsione, prevenzione e protezione del sistema di protezione civile perché contribuisce con le proprie strutture al centro funzionale decentrato e quindi contribuisce all'emissione dei bollettini che consentono di reagire agli eventi di precipitazione intensa o agli altri fenomeni meteorologici intensi che accadono e che come abbiamo sentito più volte questa mattina accadranno purtroppo più frequentemente e magari anche con maggiore intensità in futuro e quindi questa è una misura di adattamento a cui ARPA Veneto contribuisce insomma sappiamo che abbiamo avuto eventi anche recentemente nel nostro territorio vengono monitorati con vari strumenti di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ad esempio di questi e di tanti altri che credo più o meno tutti voi conoscete questo è il secondo contributo terzo e ultimo contributo è un contributo di natura più diciamo così collaborativa che è quello appunto della collaborazione della partecipazione ai progetti che riguardano i cambiamenti climatici qui ne sono citati un paio ovviamente ce ne sono anche altri in collaborazione con enti di ricerca con le università ecco questo è il terzo filone di contributo di ARPA Veneto al tema dei cambiamenti climatici queste sono le conclusioni che grosso modo ripetono quello che vi ho appena detto che adesso lascio su ma comunque ho finito grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille